Immaginate il dolore di una perdita e l'ultimo saluto a un nostro caro. Nell'antica Magna Grecia, quel saluto era un rituale fatto di tanti piccoli gesti e attenzioni, che ancora oggi ritroviamo negli oggetti che i parenti depositavano nelle tombe dei loro cari. Questa meraviglia di bronzo e lamina d'oro, che risale al IV secolo a.C., è il famoso schiaccianoci conservato nella sezione degli ori di Taranto. Due avambracci femminili, impreziositi da bracciali a spirale, uniti da una cerniera, che servivano per schiacciare la frutta secca, tipica dei banchetti dell'epoca. Non sappiamo se il defunto fosse molto affezionato a questo oggetto o se lo schiaccianoci insieme a un po' di noci, mandorle e nocciole servisse a rendere più lieve il passaggio verso l'aldilà. Sappiamo che è bellissimo ed è una delle icone più importanti del Museo archeologico nazionale di Taranto.